Allora, iniziamo la discussione sul libro di Antonio Moscatro, la madre di tutte le guerre, proprio scritto in occasione del centenario della prima guerra mondiale, un libro storico ma anche militante, quindi un libro che ha un punto di vista soprattutto anche critico nei confronti delle letture che in qualche modo sono state fatte e vengono fatte anche ultimamente anche da storici, prendo l'esempio di un libro uscito ultimamente di Gian Enrico Rusconi Con rispetto a Berlano No, però che assumono dei punti di vista assolutamente, che hanno al centro come punto di vista in quasi modo la soluzione proprio delle diverse borghesi nazionali nel causare la guerra che non indica, che non hanno come visione tutte le trasformazioni che stavano avvenendo all'interno del mondo capitalistico nella sua fase imperialista e soprattutto che in qualche modo tendono, e questa è una visione che sta avendo in qualche modo sopravvento in molte parti Gian Enrico Rusconi lo prendo come esempio, non perché ami l'autore e ami citare l'autore ma lo prendo come esempio perché tra l'altro è stato usato anche spesso dalla stampa e dal Corriere della Sera questo libro che è appena uscito per il mulino come uno dei tentativi di ricostruzione migliore della Grande Guerra lo prendo come esempio perché parte dall'attualità della Grande Guerra parlando della Germania in cui dice che la Germania sostanzialmente in questa fase storica è una Germania che si è costruita attraverso la democrazia che in qualche modo ha conosciuto percorsi travagliati, ma qual è l'assunto? L'assunto è che c'è un colpevole nella Grande Guerra e questa è una delle letture che spesso viene fatta che la Germania, il suo desiderio imperiale di potenza, una guerra di civiltà in cui combattuta dalle grandi potenze democratiche che in realtà poteva, sarebbe potuta essere evitata e in questa interpretazione appunto come dicevo prima c'è la soluzione assolutamente delle borghesia e c'è assolutamente la sottovalutazione se non la mancanza presa in considerazione di uno degli elementi determinanti anche della fase capitalistica dell'epoca tra l'altro è interessante e finisco perché poi ci sarà Diego Giacchetti che avrà modo di presentare il libro però è interessante come in uno degli aspetti, nel primo capitolo, la guerra come elemento fondativo anche come elemento mondiale che proprio coinvolge tutto il mondo e coinvolge nella spartizione del mondo c'è un capitolo anche tutto sull'Africa, ha una scheda anzi, non un capitolo, una scheda sull'Africa cosa che in realtà non è stata mai analizzata, si è visto soprattutto il fronte giustamente quello che ha anche avuto le conseguenze più tragiche dal punto di vista delle morti e della barbarie però nella spartizione, nella guerra, effettivamente è stato un elemento fondativo, è un elemento mondiale c'è anche una ricostruzione interessante che spesso viene taciuto e anzi viene assolutamente assolutamente non preso in considerazione nella discussione abbiamo anche, c'è Diego Giacchetti che conosciamo tutti, non soltanto per aver scritto adesso, tra l'altro che invito anche a leggere anche il triangolo, quindi le sue considerazioni sul neoliberismo ma anche sulle teorie della postmodernità ma che è anche storico e che conosce a fondo i temi di cui trattiamo come ha già detto Gippo, innumerevoli sono i libri, gli articoli, le pubblicazioni che compaiono in questi mesi, in questo anno sulla prima guerra mondiale, visto la ricorrenza del centenario anche la televisione a modo suo con filmati, interviste produce una serie massiccia di documentazione tutta molto interessante però molte di queste rievocazioni sono molto interessanti dicevo, ma a volte hanno al centro quello che una volta Giorgio Rochard, uno studioso dell'esercito italiano della storia militare, nonché della prima guerra mondiale del colonialismo con il suo carattere un po' scorbutico mise in evidenza e cioè si era in una situazione in cui di tesi, di dottorato di ricerche in cui si esponevano le ricerche e c'erano dei ricercatori che avevano fatto una ricerca sulla prima guerra mondiale usando cartoline, lettere dei soldati memorie, eccetera dove tutta l'attenzione evidentemente era posta su quello che viene chiamata la soggettività il personale, gli stati d'animo l'analisi delle parole per il dramma della guerra vissuto dalle persone da chi era coinvolto, eccetera ma Giorgio Rochard che non ha un carattere facile e che a volte sa anche essere scorbutico dopo un po' che cominciò a fremere e ad agitarsi dietro al banco interruppe il relatore dicendo però scusi, lei sta parlando di un oro sono cose tutte interessanti ma lei non ci ha detto perché scoppia la prima guerra mondiale non si riesce a capire perché scoppia la prima guerra mondiale non va bene va bene tutto ecco questa obiezione però vedo che a volte si può estendere questo ragionamento perché spesso in occasione di questa ricorrenza appunto la prima guerra mondiale è raccontata ma giustamente anche dal punto di vista delle sofferenze delle atrocità dei massacri più difficile difficilmente qualcuno entra nel merito del perché questa cosa è scoppiata del perché è scoppiata la guerra in questo senso il libro di Antonio Moscato invece parte da perché è scoppiata la guerra perché questo fatto è accaduto poi chi invece su un altro tema vabbè poi si cade facilmente in una visione più semplice perché è scoppiata la guerra vedo io vedo spesso trionfare questo discorso anche in classe di fronte a questo perché ogni tanto il genere umano è pervaso da atti di follia e trova qualcuno più pazzo del solito che scatena la follia insita negli uomini e ogni tanto c'è un tragico bagno di sangue nero come diceva Papini invitando a partecipare alla guerra e quindi questa è un po' la spiegazione diciamo che è una spiegazione facilona opportunista perché evidentemente l'altro percorso è più difficile perché l'altro percorso richiede l'analisi dei fatti storici ci vuole pazienza con la storia può essere anche faticoso può essere noioso seguire le interrelazioni la ricerca delle cause eccetera mentre invece può essere più facile l'altra via questo è un po' anche il quadro generale di molti articoli che vengono scritti per cui evidentemente tutti condannano la guerra poi è la fine la guerra nessuno si proclama per la guerra evidentemente tranne qualcuno che invece all'inizio del novecento la chiamava in causa ed era felicissimo che la guerra ci fosse il sangue bagno il caldo bagno di sangue nero finalmente sono finiti i giorni dell'ira eccetera eccetera ma oggi evidentemente nessuno si proclamerebbe a favore di una guerra in questo modo feroce anche se poi la difficoltà a rispondere perché ci sono le guerre permane e resiste la guerra tra l'altro è abbastanza adesso se permettete un accostamento cento anni fa ieri quindi come oggi la guerra sembrava lontana cento anni fa la guerra sembrava lontana almeno nel in quel momento lontana sia nel pensiero e nell'opinione pubblica sia nei cosiddetti intellettuali e tra gli uomini di cultura lontana nel senso che la guerra sembrava qualcosa lontana dall'Europa civile progredita in via di sviluppo sicura di sé sembrava una cosa limitata ad aspetti arretrati prima tu vecchi di società arretrate conflitti se mai limitati nell'ambito del colonialismo e per alcuni versi era anche stato così perché ad esempio la seconda internazionale è convinta che dopo l'attentato di Sarajevo il tutto si riduca a ciò che è già accaduto prima un conflitto balcanico al massimo limitato in quella zona come era già avvenuto prima la guerra sembrava molto lontana è interessante come cent'anni dopo in effetti in questi giorni anche noi cominciamo a interrogarci su questa guerra che c'è è lontana che però la madre di tutte le guerre combattuta e fatta e difesa dalla propaganda dicendo è l'ultimo sforzo per poi arrivare ad una situazione di pace è una guerra che facciamo per avere una pace perpetua non si verificò affatto e il titolo del libro di Antonio di fatti è la madre di tutte le guerre è chiaro che oggi quando uno sente un titolo del genere pensa all'islamismo no eccetera ma non è così nel senso che io credo la madre di tutte le guerre nel senso che quella guerra come dicono i sostenitori del secolo breve del novecento eccetera è la matrice apre una serie di contraddizioni che non solo non risolve con la guerra ma che incardina nella guerra stessa portando in questo senso la matrice di contrasti tensioni e conflitti e quindi altre guerre che seguiranno come più o meno tutti sapete e di cui senz'altro almeno la prima metà del novecento nei suoi avvenimenti ne è figlia completa della prima guerra mondiale senz'altro la prima parte del novecento almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale i trent'anni di guerra che in qualche modo seguono tra un conflitto e l'altro che racchiudono i due grandi conflitti sono questi e l'origine sta in questo dicevo prima che evidentemente io credo che su questo che il 1914 la prima guerra mondiale sia stato uno spartiacque sia stato quello che ha segnato in qualche modo il novecento su questo mi sembra che più o meno tutti concordino più o meno il problema è ancora vedere ancora un'altra volta le cause e il perché le cose sono accadute in questo senso però le risposte sono molteplici molte di queste risposte sembrano censurarsi di parole di cui invece il libro di Antonio fa ricorso concorrenza intercapitalistica imperialismo colonialismo guerre coloniali politica di potenza se voi ci fate caso difficilmente oggi se sentite una relazione o un discorso o una ricostruzione di Paolo Miele alla tv sulla guerra che pure sono interessanti però si evita o si evita o si fa fin comunque queste parole qui non vengono più usate sarà un caso o non sarà un caso ma non vengono assolutamente più menzionate neanche più menzionate così come in questa ricostruzione del perché della guerra viene ad esempio completamente dimenticato il contributo di quelli che in qualche modo cercarono di opporsi alla guerra il contributo di quelli che cercano di opporsi alla guerra Lenin è una parola che non compare più Rosa Luxemburg sì ma molto da un punto di vista soggettivo intimo femminile personale non tanto per il peso delle sue analisi la rivoluzione russa è completamente scorporata da ogni tentativo invece di risposta per porre fine al massacro della guerra di questo non si parla così come mi pare abbastanza anche lasciata in ombra l'analisi di come reagì o non reagì secondo i punti di vista la seconda internazionale la quale era una fortissima organizzazione internazionale aveva il suo centro forte in Europa nel più grosso e strutturato potente movimento operaio dell'epoca che era quella tedesca e all'interno di questa organizzazione si discusse spesso molto a livello teorico eccetera della possibilità eventuale di un conflitto intercapitalistico ci si pose anche poi forse in modo molto astratto cosa fare nel caso fosse scoppiata una guerra e si rispose forse poi in modo un po' superficiale dicendo ah ma in questo caso uno sciopero fermerà la guerra sta di fatto che poi forse non ci credevano tanto neanche loro perché in effetti decisioni pratiche organizzative pragmatiche su come organizzarsi davvero nel caso la guerra fosse scoppiata su come indire lo sciopero come fare nel momento in cui gli stati fossero entrati in guerra e fossero partite le cartoline precetto ecco attorno a questo discussione se ci fu non lasciò tracce strutturate in modo e organizzate tanto è vero che lo scoppio della guerra da questo punto di vista colse di sorpresa le organizzazioni del movimento operaio e accadde quello che accadde e cioè che nel breve tempo di pochi giorni le varie socialdemocrazie europee si schierarono con i rispettivi governi borghesi qui io però trovo sempre una cosa interessante che dal punto di vista ad esempio della minoranza bolscevica Luxemburg Trotsky Lenin quelli che più di altri avevano insistito sulla probabilità ed eventualità di una guerra la loro sorpresa non fu tanto lo scoppio della guerra la loro sorpresa almeno stante a quello che si dice di Lenin fu il crollo repentino della seconda internazionale fu secondo quello che si legge nelle biografie di Lenin fu che Lenin quando apprese che i socialdemocratici tedeschi avevano votato i crediti di guerra quella fu la sua sorpresa non ci voleva credere disse è un falso della canaglia borghese tedesca messa in giro non è vero non può essere vero poi come immaginate e sapete dovete per forza ricredersi perché la cosa fu impressionante i partiti socialdemocratici europei divennero da un giorno all'altro socialpatrioti convinti tranne poche eccezioni uno era il partito socialista serbo e l'altro era il partito socialista italiano però diciamo che il partito socialista italiano in questo ambiente in quel momento lì ebbe anche una certa fortuna dalla sua parte perché nell'immediato l'Italia non entra in guerra e quindi è anche facile dichiararsi neutrale a differenza di altri che invece devono fare scelte più complicate più difficili ad esempio quello serbo che era piccolo eccetera ma capite che la Serbia era in guerra e mantenere una posizione neutralista quando il paese era in guerra è una cosa differente che per quello italiano dove fu molto più facile questo è una cosa sono alcuni problemi a cui il libro risponde così come mi pare che una parte molto interessante del libro invece sia la riscoperta dei conflitti coloniali e all'interno di questi del ruolo del colonialismo italiano pre-guerra pre-prima guerra mondiale l'altra cosa ancora che il libro poi prende in esame è anche quello che avverrà nel prossimo centenario che comincerà nel mille non nel mille nel 2015 perché poi nel 2015 avremo il centenario dell'Italia che entra in guerra in che modo con quali forze con che modalità eccetera eccetera bene ma guardate che intanto il libro lo dice ma è interessante anche vedere come l'entrata in guerra dell'Italia intanto fu una forzatura non usiamo parole possiamo usarle un atto di forza per non dire un atto di forza da parte della corona da parte dei generali da parte di una parte del partito liberale che scavalcò la stessa volontà del Parlamento nonché la volontà di un'opinione pubblica che nella grande maggioranza la guerra assolutamente non la voleva eh assolutamente non la voleva e anche nei mesi del cosiddetto maggio radioso quelli che preparano l'entrata in guerra in quelle poche settimane certo ci fu una propaganda nazionalista sfegatata i giornali appoggiarono in pieno questa campagna a favore della guerra con i dannunzi eccetera eccetera però non riuscirono a rovesciare un'intenzione dell'opinione pubblica che non guardava certo a questa guerra all'interno di questo di questo contesto va anche valutata la posizione del partito socialista italiano la quale posizione del partito socialista italiano in qualche modo finché l'Italia assume una posizione neutrale è molto facilitata nel mantenere la sua posizione quando poi la guerra scoppia la cosa si fa più difficile la cosa si fa molto più difficile perché a questo punto poi voi sapete il partito socialista adotta una linea che non risponde a cosa fare a cosa fare una linea che dice vabbè la guerra c'è noi non vi aderiamo ma neanche sabotiamo la guerra neanche operiamo con azioni per impedire questa guerra o per farla finire certo ci sono iniziative prese dal partito socialista italiano ad esempio la riunione di Zimmerwald si svolse soprattutto per impulso di alcuni socialisti italiani che la vollero ma alla fine il partito si trovò in questo senso disarmato di fronte a questo evento di fronte a questo evento tanto è vero che diciamola pure e invece fu proprio una delle ragioni per cui invece Mussolini ruppe con questo partito e con una posizione che noi oggi possiamo definire guerra fondai e sciallerata ma che nell'immediato rappresentò una risposta una risposta forte sua che tra l'altro la colse anche consensi attorno al quale lui poi costruire la sua fortuna politica e il suo passaggio successivo dal socialismo al fascismo e tutto quello che ne conseguì tutti questi argomenti ritorneranno senz'altro così come e poi concludo cioè il ma questo non è colpa non è solo nei libri 1914 1914 eccetera la manualistica scolastica l'abitudine eccetera le guerre scoppiano perché all'improvviso in un popolo in popoli prettamente civili sereni e tranquilli oggi all'epoca non dissero attentati terroristici impongono la guerra 1914 qualcuno credo sulla stampa e su altri giornali anche ha considerato l'attentato di Sarajevo un atto di terrorismo che portò e fece scoppiare la guerra e quindi questo per dire che anche oggi il pericolo del terrorismo è lì che riscede l'eventuale pericolo di una guerra eccetera eccetera atti scellerati di singole persone e momenti di follia dove persone un po' più matte o più mattacchione del solito provocano dei disastri enormi pensiamo solo alla semplificazione voluta soprattutto dalla storiografia americana del nazismo presentato come una banda di gangster e Mussolini e Hitler un elemento da psicanalisi completamente pazzo e furibondo come elementi scatenanti della seconda guerra mondiale questa lettura ritorna ritroso anche nelle cause della prima guerra mondiale in semplificazioni estreme e molto facili l'ultima cosa che direi è che quando noi potremmo sentiamo dire qualcuno usa spesso la categoria di guerra civile guerra di civiltà tenta di usare la categoria guerra civile guerra di civiltà relativamente al primo conflitto mondiale bene io direi che però una cosa è dire una guerra civile e una cosa è dire guerra di civiltà la prima guerra mondiale vogliamo chiamarla guerra civile io la chiamerei guerra civile non certo guerra di civiltà è una guerra civile tra paesi intercapitalisti e imperialisti per conquistare ruoli e posizioni di potere all'interno di un sistema capitalistico che rimane sostanzialmente inalterato guerra civile se mi permettete è Mario Silla nell'antichità guerra di civiltà oppure i bianchi e i neri i guelfi e i ghibellini guerra di civiltà ha un altro significato è un'altra cosa vede l'opposizione di sistemi sociali completamente opposti diversi ideologicamente socialmente culturalmente quella io la chiamerei una guerra di civiltà non certo la prima guerra mondiale se vogliamo usare il termine guerra civile prima di tutto devo delle scuse a Gippo perché quando ho fatto un sassulto quando ha nominato Rusconi devo spiegare che non dipendeva da quello che diceva lui ma dal fatto che ho conosciuto Rusconi da anni e abbiamo fatto una litigata abbastanza grossa in presenza di Enzo Collotti ma su una questione che centra molto con quello che dice ora perché lui negava l'esistenza di una rivoluzione tedesca del 18-19 dice no no hanno vinto quindi non c'è nessuna rivoluzione che è un'opinione diffusa ma insomma essendo uno storico c'è qualche responsabilità in più non riusciva a capire perché io dicessi che quella era una rivoluzione io dicevo scusa ma allora la rivoluzione del 1905 non era una rivoluzione perché ha perso e la stragrande maggioranza delle rivoluzioni sono state sconfitte ma erano o non lo erano dipende da come cosa hanno provocato di sommovimenti eccetera in questo senso era lo consideravo un simbolo di un certo insieme ad altri naturalmente la maggior parte dei libri che io non ho usato gli ho dato un'occhiata all'inizio e poi me li sono letti con calma e li continuo a leggere hanno come la cosa che mi ha stupito di più sono dei libri di 700 pagine in cui nell'indice dei nomi non c'è né Lenin né Rosa Luxemburg e Jorrest una volta viene nominato ma per un dibattito parlamentare precedente è una cosa perché non gli interessa discutono esclusivamente dei rapporti diplomatici alcuni sono pregevolissimi e naturalmente non si capisce assolutamente perché la guerra è scoppiata è evidente si trovano testimonianze vere non inventate di politici diplomatici banchieri finanzieri diciamo perfino produttori di armi che dicono no la guerra è una sciacura noi non la vogliamo non ha senso ci indebolirebbe ci farebbe però la guerra è scoppiata piccolo particolare allora io penso che per capirla e per questo la questione coloniale mi è parsa importante oltre che per un particolare autobiografico io vengo da una famiglia di militari sia da parte paterna che materna e non ho mai saputo nulla né al liceo né ancora all'università sul colonialismo italiano c'erano solo versioni diciamo edulcorate e la missione civilizzatrice dell'uomo bianco per questo diciamo sono molto sensibile a questo tema ma perché la questione coloniale è quella che permette di capire la prima guerra mondiale veniva a partire dalla fine non dall'inizio e la fine sono le conferenze di Versailles di Trianon di Sevres che spartiscono il mondo e gettano le basi di moltissime sciacure successive proprio diciamo dalla questione palestinese l'Iraq ha assemblato mettendo insieme tre province che non avevano mai avuto rapporti tra di loro il Libano che inserisce i sunniti all'interno diciamo perché c'era c'era un equilibrio tra drusi e maroniti che più o meno funzionava che attaccano un pezzo per architettura diciamo sulla carta diciamo per creare degli stati subalterni e fantoccio diciamo sotto protezione e sotto tutela della società delle nazioni che è un altro dei bersagli mio diciamo come l'ONU perché entrambi non hanno mai risolto il problema di un solo paese allora questa è una prima cosa l'altra cosa che ho voluto sottolineare alcuni dicono non c'era una propaganda ufficiale erano zelo di alcuni pubblicisti di alcuni intellettuali è una falsità colossale è una falsità colossale perché in tutti i paesi e questo c'è George Moss che ha diciamo analizzato come si è creata la nazionalizzazione delle masse bisognava prima fargli capire che appartenevano a una determinata nazione e che quella a fianco faceva schifo le salbosch e così io non so come dite voi per i francesi ma diciamo ognuno ognuno noi dicevamo i crucchi eccetera eccetera però creando artificiosamente diciamo questi odi ma anche al tempo stesso creando un'identità che non c'era io porto sempre l'esempio dei Malavoglia nei Malavoglia appare chiarissimo che la maggioranza in quel caso pescatori ma per i contadini ancora di più conoscevano e non erano italiani erano di Acidrezza Acicastello alcuni erano stati a Catania e conoscevano questo posto lontanissimo e mitologico che stava a 15 chilometri di distanza e diciamo e poi scoprono che di essere italiani all'issa della battaglia allora è questo diciamo c'è un processo e questo lo ripeto sempre per quelli che a proposito della questione palestinese diciamo i palestinesi non erano una nazione si è creata in un certo modo per reazione e così via e vengono create direttamente o per riflesso diciamo delle identità questo è perché sono indispensabili perché per mobilitare in un certo modo occorre che ci sia una convinzione di una parte della popolazione a mio parere è chiarissimo e la storia chi è che citava Rochard tu prima Rochard ha dei grandi meriti in effetti devo dire che all'inizio anche i snenghi mentre ultimamente ha avuto un riflusso inquietante diciamo approdando anche lui al fatto che non è responsabilità di nessuno e poi ci sono tante cose belle poi in fondo c'era un sentire nazionale la gente partecipava per commozione cioè ha rinegato cose che aveva scritto lui stesso in quegli anni meravigliosi 60-70 in cui in tutto il mondo c'era i prodromi e le conseguenze del 68 cioè di un'ondata rivoluzionaria che ha avuto effetti benefici anche sugli studi sulle ricerche eccetera in quegli anni sono usciti lavori importanti in quegli anni si è venuto a sapere che diciamo nel 60% delle divisioni francesi sul fronte tedesco diciamo tra tedeschi e francesi c'erano state diciamo sollevazioni e insubordinazioni una cosa erano state tenute nascoste fino al 62 quando uno storico è riuscito a mettere le mani sugli archivi militari era stato occultato accuratamente sia uccidendo fucilando alcuni sia diciamo amnistiando altri la Germania non ne seppe nulla di questi fenomeni che c'erano i comandi tedeschi non lo seppero perché avrebbero potuto approfittarne ma dimostrava la profondità è un fenomeno in forma diversa ma affine a Caporetto perché a Caporetto se il tenente Rommel può catturare con un plotone di 200 uomini e cattura 3.000 soldati 300 ufficiali eccetera eccetera è perché c'era uno sfaldamento dovuto a mancanza di direzione ma anche alla stanchezza della guerra e al rifiuto della guerra naturalmente non poteva è facile dire e lo dicono quando lo affrontano i difensori dell'ordine esistente è evidente che non potevano vincere diciamo è chiaro che non potevano vincere perché? perché erano la grandissima maggioranza era contro la guerra ma era assolutamente disorganizzata per i crimini di tutte le socialdemocrazie compreso io su questo solo sono in disaccordo con Diego il partito socialista italiano perché era furbesco il neaderire nel sabotare che andava bene nel periodo neutralista e per l'appunto questo l'hai detto anche te però diventa intanto però andava bene tra virgolette perché se una guerra fa schifo bisogna sabotarla se invece va bene bisogna partecipare e aderire invece in questo modo era un modo per non pronunciarsi sulla guerra nemmeno nell'altro modo ugualmente platonico dell'inutile strage da parte del Papa e dei cattolici quindi cioè evitare di prendere posizione ma quando in guerra ci si sta chi vuole sabotare va in galera con l'accordo degli altri non c'è nessuna difesa di quelli che continuano a mantenere un atteggiamento contro la guerra ci sono il problema quindi ci sono milioni di persone che non si riconoscono non solo non si riconoscono nella propaganda bellicista dei dannunti o dei marinetti e così via diciamo esaltati dalla bellezza della guerra i gene del mondo e così via non si riconoscono in quello ma non trovano nessuna sponda organizzativa perché occorrerebbe un supporto cioè per questo non citano Lenin perché parlano semplicemente dei partiti che si disgregano e poi si disgregano per modo di dire perché il partito la socialdemocrazia tedesca partecipa attivamente alla guerra chiedendo o coprendo gli arresti delle redazioni dei giornali di sinistra e avalla l'arresto di Rosa Luxemburg di Karl Ibnacht eccetera che avviene nel caso di Rosa immediatamente per una sentenza lasciata in sospeso eccetera eccetera per vilipendio dell'imperatore e così via e gli schiaffa dentro la contorivoluzione preventiva non è solo quando l'ammazzano nel gennaio del 19 è fin dall'inizio della guerra perché la imbavagliano la chiudono in carcere eccetera eccetera e è questo che lascia disorientato perché ci mette ci mette un bel po' è vero Lenin era stupefatto perché non se lo immaginava perché non ci voleva credere eccetera perché il livello di dichiarazioni medie del militante di base socialdemocratico era contro la guerra fino all'ultimo e quindi come è possibile che l'accettano allora subentra la questione di tutte le guerre diventano di difesa tutte per tutti la Germania si deve difendere dal terribile pericolo della barbarie zarista che distruggerebbe le conquiste sociali e politiche del proletariato socialdemocratico eccetera e quindi si deve far questo viceversa la Francia si deve difendere dalla barbarie teutonica che vorrebbe instaurare una dittatura militare eccetera questi sono gli argomenti della maggioranza schiacciante dei quadri dei partiti socialisti e quando uno pur non eccezionale come livello teorico come Jean Chaurès si dichiara ancora fiducioso nella possibilità di fermare la guerra sarà uno squilibrato non sarà uno squilibrato fatto sta che viene fatto fuori e nessuno reagisce in nessun modo e viene sepolto immediatamente con ogni speranza di contrastare per questo delle masse terribili enormi mandate al massacro eccetera non troveranno altra formula che quella della diserzione io ho conosciuto diversi disertori personalmente nel senso che essendo vecchio diciamo negli anni 60 mentre facevo la mia tesi sulle montagne della miata e c'erano moltissimi contadini che ti raccontavano le loro vicende dice ah io quando prima ancora di Caporetto dice e io ho disertato perché a me avevano detto che dove andassi a liberare i miei fratelli che stavano male e soffrivano arrivo là stavano molto meglio di me non volevano essere liberati alla prima occasione sono scappato e così è diciamo evidente che era che era un atteggiamento diffuso quando Caporetto assume dimensioni di massa perché sono gli ufficiali che si disgregano cioè lo stesso Badoglio che sparisce per una giornata intera perché viene prima insultato da un gruppo di soldati che lo aggredisce verbalmente scappa così precipitosamente con una delle poche automobili che avevano a disposizione perché erano entrati in guerra con uno scarsissimo parco di autovetture e finiscono in una buca si spezza e quindi prosegue a piedi e passa la giornata senza dare un ordine a nessuno è evidente che in assenza di ordini è facilissimo che il tenente Rommel diciamo quando e io ho sottolineato un episodio che a me è parso importante Rommel ha un simpatico libro di memoria racconta che appunto incontra la brigata Salerno e c'erano tutti i soldati che discutevano tra di loro e come vedono arrivare questa pattuglia di tedeschi perché erano pochi i tedeschi in quella zona erano quasi tutti austro-ungarici e quando vedono i tedeschi li accolgono il grido di Guglielmo II eccetera eccetera e li accolgono abbracciati gli ufficiali che stavano in disparte che erano un bel po' cercano di reagire ma uno viene fatto secco subito e gli altri si arrendono e si rendono conto che sono arresi a un pugno di uomini enormemente inferiore vuol dire che c'era diciamo erano arrivati a un livello di insofferenza nei confronti della guerra che li portava anche a disertare allora questo dimostra che il potenziale per fermarla c'era nel senso che di masse entusiaste della guerra non c'erano erano settori urbani intellettuali circoscritti illimitati che erano a favore della guerra poi naturalmente c'erano i conformisti che seguivano che speravano speravano nelle conquiste immediate eccetera ma non era la maggioranza della popolazione la maggioranza della popolazione era contraria ma incapace di organizzarsi perché da sola non riesce a far fronte a questo in questo senso c'è la responsabilità assoluta delle cose perché vorrei che poi parlassero un po' di compagni gli argomenti l'hai detto bene tu presentare come una follia eccetera eccetera è una cosa inesplicabile e così via e viene abbinato però al tempo stesso quando si evocano si fanno analogie eccetera al morire per Danzica dice attenzione dobbiamo però non rinunciare alle occasioni per fermare il male per fermare le cose quindi adesso volta a volta si trova un male da sterminare e così via volevo fare alcune considerazioni invece su una cosa gli argomenti principali contro la tesi che diciamo intanto va bene si elitano a vicenda la maggioranza della storiografia è orientata o assolvere la Germania o assolvere la Francia la Gran Bretagna comunque sempre a trovare un responsabile da una parte e un colpevole dall'altra diciamo a fare questo tipo di di scelta ma la caratteristica poi di tutte queste tesi che era impossibile che la guerra scoppia per errori imprevedibili perché di valutazione e così via si basa sul fatto che i potenti i sovrani in particolar modo ma anche gli uomini politici andavano a cena insieme fino al giorno prima si incontravano negli yacht diciamo si chiamavano per nome o per sovrannome tra Nicola erano tutti parenti detto per inciso tutti imparentati con la regina Vittoria chi ne aveva sposato un figlio una figlia nipote eccetera eccetera e così via e si trovavano insieme erano la stessa banda la stessa gricca e se ne fregavano dei loro popoli questo è il piccolo particolare per cui le loro dichiarazioni di fraternità di amicizia di fiducia eccetera accompagnate poi da scoppi d'ira quando quell'altro mancava la cosa si spiegano solamente in questo modo che tra loro si intendevano si annusavano e si trovavano dalla stessa parte il lavoro fondamentale era quello di sradicare da prima diciamo l'odio crescente che era stato instillato nei popoli che era questo il lavoro che dovevano fare i partiti operai diciamo su questo ci sono romanzi e soprattutto ci sono stati alcuni film adesso di cui uno bellissimo mi ricordo di un crollo in una miniera di carbone di quelle che stavano sul confine tra Francia e Germania in cui i minatori si aiutano a vicenda che sono però legati ad episodi reali che ci sono stati e come ci sono state le fraternizzazioni nel primo anno e poi di nuovo nell'ultimo anno di guerra nel primo anno perché diciamo tregua per Natale che viene fatta con i soldati che si si scambiano le cose e stabiliscono degli accordi intanto di non spararsi per alcuni giorni si scambiano si scambiano cose che avevano si scambiano fumo eccetera e diciamo sigari e così via e poi lo riparanno nell'ultimo periodo diciamo nell'ultimo anno deliberatamente compreso arrendendosi volontariamente ecco mi ero distratto e non avevo finito di raccontare perché la brigata Salerno si arrende così in massa perché pochi mesi prima la brigata Salerno era stata sottoposta a una cura particolarmente intensa da parte degli ufficiali cioè siccome alcune centinaia di soldati erano andati all'attacco e si erano trovati bloccati perché era stato interrotto il passaggio per ritornare indietro ed erano rimasti due o tre giorni senza acqua in una terra di nessuno e non potevano andare né avanti né indietro decidono di andare avanti e arrendersi e a quel punto quando se ne accorgono gli ufficiali li fanno gli ufficiali italiani cannoneggiano i soldati italiani per impedire che si arrendano gli altri se lo sono legato al dito e quando arriva l'occasione di Caporetto si arrendono in massa e diciamo era un fare i conti in un certo modo e all'ufficiale che cercava di alzare la voce e di fermare gli sparano direttamente altra cosa che viene taciuta in genere quando si parla la funzione dei carabinieri la funzione dei carabinieri che era terribile perché erano regolarmente in ogni unità c'erano i carabinieri incaricati esclusivamente di sparare nella schiena a quelli che esitavano durante l'attacco o tendevano sparagli nel petto se tendevano a tornare indietro questa è una parte che la benemerita ha fatto questo diciamo sistematicamente e diciamo masticciamente non per sadismo ma perché erano gli ordini e ci sono testimonianze che ho riportato di Catorna che elogia e dice che il dovere di un ufficiale se vede un'esitazione è di sparare immediatamente e fare secchi sul posto quelli che esitano quindi è una guerra che rivela la ferocia di classe tra gli altri ufficiali che appartengono agli strati superiori e diciamo la massa dei soldati ultima cosa la guerra poi c'ha invece genera trasformazioni economiche sociali tecnologiche notevoli che alcuni esaltano perché sono vere sono vere basta pensare che all'inizio della guerra in tutto tra tutte le potenze c'erano solo 774 aerei fatti di legno costruite nei mobilifici di legno con tela eccetera eccetera con motori che potevano portare una persona e al massimo potevano buttare una bombetta da due chili diciamo alla fine della guerra ne sono stati prodotti 200.000 di aerei e sono cominciati gli aerei di alluminio gli aerei diciamo con motori complessi e diciamo e potenti e che possono buttare alcuni diciamo quintali di bombe diciamo quindi è un magnifico progresso tra l'altro l'Italia è stata diciamo tra le potenze diciamo non proprio grande potenza ma è stata una pioniera da questo punto di vista perché l'aveva cominciata a usare già nella guerra di Libia e poi verranno usati in quella dei Balcani usati non tiravano grandi cose tiravano di gas perché i gas sono stati usati per primi dagli italiani per primi abbiamo un grande merito diciamo nell'innovazione tecnologica della guerra e sono le navi vengono costruite una quantità di navi 20 volte quelle che sono state affondate c'è una corsa e poi non servono a niente praticamente battaglie navali significative non ce ne saranno detto per inciso anche sui gas si nasconde in genere che tutti i paesi ce ne avevano un po' più la Germania perché era all'avanguardia nella chimica diciamo in quel momento ma l'Italia l'aveva comprata in Germania ben inteso come l'Italia vendeva la Fiat aveva prodotto motore di sottomarini che aveva venduto alla Germania fino a pochi mesi prima di entrare in guerra contro la Germania perché questa è la cosa come i sovrani vanno a fare i weekend insieme nello stesso yacht così gli industriali si scambiano diciamo cose e un'osservazione interessante è che in molti casi non erano gli industriali in quanto tali ma dei sistemi clientelari per cui diciamo Guglielmo II favoriva la Crup altri favorivano altri produttori di armi anche di altri paesi perché c'erano affari d'oro che venivano poi spalmati sui vari governanti fino all'ultimo giorno prima della guerra diretta e ci sono episodi poi durante la guerra di zone finisco dove i beni comuni non vengono toccati sul confine lussemburghese francese alzaziano eccetera conquistati dalla Germania ma la Francia evita di bombardarli perché i proprietari erano i Wendel che erano Wendel in Francia e Wendel in Germania e quindi bisognava evitare si bombardavano i civili i quartieri operai ma le fabbriche era meglio non toccarle perché dopo la guerra servivano e così via e quindi si continuavano a sfornare acciaio e armi e così via questo è un dato ultimissima cosa ma no ma non importa comunque questi progressi tecnologici il fatto che il carro armato è la grande invenzione perché in realtà l'avevano inventato prima ma l'avevano scambiato per un giocattolo era stato respinto dalla Gran Bretagna dopo di che lo producono si chiama tank perché per ingannare il nemico dicevano che erano dei serbatoi dell'acqua che dovevano portare l'acqua alle truppe però entrano in scena diciamo nelle prime battaglie poche decine e non servono a niente non avevano difficoltà eccetera c'era una fretta di produrre diciamo e alla fine diventeranno notevolmente di più viene fatta la prima portaerei l'Argus che entra in funzione a settembre del 18 cioè alla fine non farà mai nessuna cosa ecco queste cose sono esaltate come l'aspetto positivo della guerra che ha creato occasioni di sviluppo industriale mi pare che è evidente che non ci commuoviamo e l'altra cosa le donne ecco questo forse sì indirettamente c'è una grande un grande balzo diciamo della condizione femminile perché le donne guidano i tram le donne prendono il posto nelle fabbriche quindi si liberano un po' da certi rapporti patriarcali molti sottolineano questi aspetti dicendo la prima guerra mondiale ha aperto alle donne una prospettiva ma insomma c'erano anche donne che cominciavano a combattere facendosi passare per uomini senza che ci fossero reparti femminili tranne che in Russia dove c'era un corpo di militare femminile di guardie imperiali ma insomma non mi pare che sia una cosa che ci basti per assolverla spero che non porti male ma per questo ho fatto la battuta sul prossimo centenario che ho capito benissimo cos'era perché è vero che l'anno prossimo c'è il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia in cui ovviamente è più difficile fare sviolinate e cose è un po' più dura però volevo ricordare che nel 1913 in Germania c'era stata una grandissima celebrazione della vittoria sul Napoleone delle guerre napoleoniche eccetera la gente dice ma come mai ci occupiamo di una cosa di cent'anni fa è una cosa che non serve a niente faceva parte anche questo dei sistemi per creare per orientare l'opinione pubblica diciamo e per proiettarla verso il futuro che si preparava io mi fermerei qui perché penso che possiamo c'è spazio per qualche intervento grazie a tutti grazie a tutti